Buongiorno, questa mattina noi esploreremo il capitolo quarto della prima lettera di Pietro. È un capitolo un po' birbante, non so poi quale sia il capitolo non birbante del testo biblico. Voi vedete un po' di ragnatele, vero? Bene, proviamo ad osservare queste ragnatele. Avendo Cristo sofferto nel corpo, anche voi dunque armatevi degli stessi sentimenti. Chi ha sofferto nel corpo ha rotto con il peccato. Per non vivere più il resto della sua vita nelle passioni umane, ma secondo la volontà di Dio. È finito il tempo trascorso nel soddisfare le passioni dei pagani, vivendo nei vizi, nelle cupidigie, nei bagordi, nelle orge, nelle ubriachezze, e nel culto illecito degli idoli. Per questo trovano strano che voi non corriate insieme con loro verso questo torrente di perdizione, e vi oltraggiano. Ma renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Infatti, anche ai morti è stata annunciata la buona novella, affinché siano condannati, come tutti gli uomini, nel corpo, ma vivano secondo Dio nello spirito. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto conservate tra voi una carità fervente, perché la carità copre una moltitudine di peccati. Praticate l'ospitalità gli uni verso gli altri, senza mormorare. Ciascuno secondo il dono ricevuto. Lo metta a servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia con parole di Dio. Chi esercita un ufficio, lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, non meravigliatevi della persecuzione, che come un incendio è scoppiata in mezzo a voi per mettervi alla prova, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo spirito della gloria, che è spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o delatore, ma se uno soffre come cristiano, non ne arrossisca. Per questo nome, anzi, dia gloria a Dio. E questo è il momento in cui ha inizio il giudizio, a partire dalla casa di Dio. E se comincia da noi, quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio? E se il giusto astento si salverà, che ne sarà del lempio e del peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo il volere di Dio, consegnino la loro vita al Creatore fedele, compiendo il bene. Duretto come testo. Proviamo adesso a dare un'occhiatina a questa specie di tessuto e notiamo che le cose che ricorrono sono il verbo soffrire che, notate, fa come da inclusione. All'interno, il tema della sofferenza è declinato come sofferenza di Cristo, sofferenza del cristiano. Viene esclusa la sofferenza che nasce da comportamenti non corretti che la persona può avere. Omicida, ladro, malfattore, delatore. Questo è, diciamo, il tema portante. Contemporaneamente a questo tema portante ci sono due temi secondari. Il giudizio di Dio e la volontà di Dio. Accanto a questi due c'è una terza, il Vangelo. Buona novella e Vangelo. Questi elementi, che sono puramente indicativi, danno lo scheletro della tematica che dovremo affrontare oggi. e cioè soffrire perché i cristiani ha senso. Questo è fondamentalmente la domanda alla quale il nostro autore tenta di dare una risposta. E ovviamente la risposta non è una risposta chiusa, è una risposta aperta. Perché pone il cristiano in relazione a Cristo e pone il cristiano in relazione al giudizio. Come giudicare la relazione con Cristo e come giudicare la relazione con il giudizio finale attraverso quanto può essere fornito dalla parola del Vangelo. Bene, questo è un quadro generale. Proviamo a scendere nel particolare. Nella prima conversazione che noi abbiamo fatto abbiamo visto che la lettera di Pietro è suddivisa in sei blocchi. Se voi notate noi tocchiamo un pezzettino del quarto, la parte finale, e l'inizio del quinto. questa nostra pericope così come la vediamo oggi è suddivisa in quattro momenti. Nel primo momento noi vediamo le sofferenze di Cristo e quelle del cristiano legate alle prime nei primi due versetti. poi abbiamo altri versetti dal 3 al 5 che spiegano da dove nasce questa persecuzione. Non è tanto una persecuzione che viene dall'alto l'imperatore ha comandato di far fuori i cristiani quanto piuttosto dal tessuto sociale che circonda il cristiano. poi dal 6 all'11 c'è una specie di sintesi come il cristiano dovrebbe comportarsi e poi c'è una parte finale dal 12 al 19 dove il tema di fondo è questo se tu come cristiano non sei accolto non sei accettato o sei addirittura perseguitato questa è una garanzia che tu sei salvo. Vediamo adesso di affrontare per parti queste tematiche le prime difficoltà guarda caso sono nella traduzione testo greco direbbe qualche cosa che nella traduzione è un po' difficile farla emergere e abbiamo e abbiamo almeno questi tre casi che sono i più importanti ce ne sarebbero altri ma questi sono i più importanti proprio il primo versetto il secondo e il sesto la prima cosa che noi dobbiamo fare è cercare di vedere il greco anche se non capiamo niente se voi notate c'è una specie di costruzione nel greco che è parallela Pazzontos Sarchii o Pazzon Sarchii Pazzontos è il genitivo di Pazzon quindi è la stessa cosa è un participio sia nel primo caso sia nel secondo la traduzione italiana che noi abbiamo letto è questa qui avendo Cristo sofferto nel corpo anche voi il dunque ve lo mettete in tasca perché in greco non c'è armatevi degli stessi sentimenti chi ha sofferto nel corpo ha rotto con il peccato la vecchia traduzione quella del 74 dice poiché dunque Cristo soffrì nella carne chi si ricorda un po' di greco sa che questa espressione è un genitivo assoluto può essere tradotto con una secondaria mettendoci questo bel gerundio oppure può benissimo essere tradotto anche con una causale va bene lo stesso poiché dunque Cristo soffrì nella carne anche voi armatevi degli stessi sentimenti chi ha sofferto nel suo corpo questo è in più in greco non c'è chi ha sofferto nel corpo ha rotto definitivamente col peccato il definitivamente non c'è questa invece è una traduzione protestante poiché dunque Cristo ha sofferto per noi per noi non esiste in greco nella carne armatevi anche voi del medesimo pensiero qui c'è la parola pensiero qui c'è la parola sentimenti qui c'è la parola sentimenti questa è la parola greca messa sotto processo ennoian ennoian nus e la capoccia e l'intelligenza ennoian sarebbe il modo di pensare ciò che noi chiamiamo mentalità armatevi anche voi quindi sono tutte tre sbagliate armatevi anche voi della stessa meglio della sua mentalità o stessa mentalità va bene perché chi ha sofferto nella carne ha pepautai questo pepautai non dice niente a nessuno ma se noi prendiamo la parola italiana pausa e la confrontiamo col verbo greco paumai è la stessa cosa paumai vuol dire fare pausa vi è chiaro e quindi questo perfetto indica che chi soffre fa pausa non è che smetta di peccare per sempre ma l'esperienza della sofferenza certamente fa fare pausa rispetto all'esperienza del peccato queste sfumature notate che in italiano non emergono ed è difficilissimo farle emergere per cui va bene queste traduzioni però sarebbe meglio leggerlo in greco se voi notate c'è questo parallelo Cristo soffre nella carne anche il credente soffre nella carne però Cristo soffrendo nella carne ottiene il perdono dei peccati e chi soffre nella carne fa pausa nei confronti dei peccati smette almeno temporaneamente di peccare ecco questa è la chiarificazione del primo versetto perché letto così è un testo che probabilmente dà un messaggio che non è esattamente quello del testo originale primo su questo tema e noia è il modo di pensare non riguarda i sentimenti riguarda il modo di valutare le cose di giudicare di prendere decisioni e poi questo verbo è eccessivo 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 una traduzione forse meno lontana di questo verbo Pao Mai potrebbe essere sta smettendo di peccare ha preso le distanze dal peccato piccolo inciso ecco perché è difficile commentare il testo biblico partendo solo dalla traduzione perché la traduzione è un avvicinamento al messaggio originale ma il messaggio se letto in lingua originale è leggermente diverso e qualche volta pesantemente diverso rispetto alla traduzione bene proviamo a vedere il secondo versetto il secondo versetto in italiano abbiamo per non vivere più il resto della sua vita nelle passioni umane ma secondo la volontà di Dio la traduzione protestante dice per vivere il tempo che resta nella carne non più nelle passioni degli uomini ma secondo la volontà di Dio la vecchia traduzione italiana diceva per non servire più alle passioni umane ma alla volontà di Dio nel tempo che li rimane in questa vita mortale questa forse è la traduzione più scorrevole perché la si capisce bene in quanto le passioni umane vengono contrapposte alla volontà di Dio in italiano si capisce benissimo più di quanto si capisca la traduzione protestante più di quanto si capisca la traduzione moderna italiana però come si suol dire è una bella infedele cerchiamo di vedere le cose qui questo epizimias epizimiais antropon seguendo il testo antropon epizimias sarebbe tutto ciò che spinge l'uomo ad agire senza prendere decisioni morali invece selema di seù sarebbero i valori morali e allora il testo dice Biosa e Crono vivere giorno dopo giorno non seguendo le spinte non riflesse l'istinto uno mi dà un pugno per istinto glielo restituisco probabilmente anche due ma dice il nostro testo non è così eccolo qua epizimiais antropon ma seguendo i valori ora il grosso problema dei valori non è il catalogo questo è un valore questo è un valore questo è un valore questo è un valore ma è l'ennoya il modo di pensare c'è una grossa differenza fra morale e moralismo la volontà di Dio è prima di tutto imparare a pensare come lui volontà di Dio è il rispetto della verità sì ma molto spesso in nome della verità abbiamo bruciato gente a rogo perché eretica allora quello non è il modo corretto di rispettare la verità ecco perché la volontà di Dio questo se le ma tu se u in questo caso noi abbiamo un bellissimo dativo e acquisire questo è noi di Gesù non è mettere in fila questo o quel valore perché quando noi osserviamo i valori per se stessi rischiamo di commettere degli errori ah quello che c'è da dire io lo dico sì fai bene a farlo ma dovresti saperlo coniugare mettere insieme con il rispetto con quello che i cristiani chiamano carità non puoi dire la verità senza tenere presente la carità non puoi dire la verità senza rendere conto di ciò che succede dopo che l'hai detta è successo adesso per le feste di Natale un direttore d'orchestra si permette di dire ai bambini quello è un omicida della fantasia dei bambini è la verità certo che è la verità ma tu al bambino piccolo non puoi spiegare come nascono i bambini o li parli della cicogna o li parli del cavolo oppure entri nella poesia il bambino nasce sotto il cuore della mamma ma non li puoi spiegare tutto esiste una proporzione tra la verità che tu conosci e la verità che puoi dire la proporzione è il rapporto di rispetto non di buona educazione che è un'altra cosa la buona educazione il rapporto di rispetto verso la persona che è davanti la sua mentalità la sua capacità di capire la sua sensibilità quindi la verità la devi dire ma devi trovare il modo che sia rispettosa ecco perché i valori da soli più di qualche volta arrischiano di essere omicidi il cristiano sa che la verità è importante sa che la giustizia è importante sa che la solidarietà è importante ma tutto questo va vissuto con la ennoia il modo di pensare suo questa è la differenza fra cristianesimo e qualunque altra religione noi non abbiamo una morale noi noi abbiamo una persona come morale e tutti quanti facciamo una fatica da morire a capire questa logica per cui il cristiano dice ma perché cavolo io devo leggere il Vangelo per acquisire la sua mentalità non per imparare quella regoletta quell'altra regoletta non è importante importante imparare il suo meccanismo terzo caso noi abbiamo letto infatti anche ai morti è stata annunciata la buona novella affinché siano condannati qui nessuno ha capito un Kaiser forse neanche noi capiremo un Kaiser affinché siano condannati come tutti gli uomini nel corpo ma vivano secondo Dio nello spirito chi ha capito qualcosa alzi la mano la vecchia traduzione della CEI infatti è stata annunciata la buona novella anche ai morti perché pur avendo subito perdendo la vita nel corpo la condanna comune a tutti gli uomini vivano secondo Dio nello spirito traduzione protestante per questo infatti è stato predicato l'Evangelo anche ai morti affinché fossero giudicati nella carne secondo gli uomini ma vivessero nello spirito secondo Dio il dibattito è aperto chi ha capito qualcosa lo dica e se non abbiamo capito niente passettino alla volta vediamo se riusciamo se noi leggiamo il testo greco notiamo che questa frase è in qualche maniera indipendente da quest'altra quindi questa prima parte è chiara in tutte e tre le traduzioni anche i morti sono stati evangelizzati un po' sorridendo un pochettino ironizzando i padri della chiesa dicono perché Gesù è rimasto tre giorni nel sepolcro venerdì sera tutto il sabato e probabilmente la domenica mattina è perché per evangelizzare i morti lì è stato necessario un po' di tempo adesso adesso la cosa che a noi interessa di più è questa proviamo anche se non conosciamo greco proviamo ina vuol dire affinché può essere tradotto anche perché va bene lo stesso poi qui c'è un verbo cristosi la costruzione di questa prima parte è identica alla costruzione della seconda parte c'è il verbo poi c'è una particella che di per sé è intraducibile men è una specie di avviso per dirvi guardate che dopo ci sarà un de è un avviso di lettura da farsi insieme da una parte l'ubriaco è stonfo dall'altro l'astemio è sobrio da una parte dall'altra non dicono niente dicono solo mettete insieme le due frasi chiaro? men de in greco ha questo compito allora proviamo per un momentino a tirarle via queste robettine che per il momento non ci servono in in abbiamo visto che vuol dire affinché verbo verbo catà anzropus catà notate che è la stessa costruzione catà più l'accusativo e qui avete gli uomini catà è più accusativo e qui avete dio poi qui c'è sarchì carne pneumati spirito crisosai è una forma passiva del verbo crino che non vuol dire condannato ma vuol dire giudicato affinché i cristiani no i morti affinché i morti siano giudicati secondo gli uomini nella carne e vivano secondo dio nello spirito ora il grosso problema non è capire la seconda parte dell'espressione perché vivere secondo dio nello spirito non è difficile da capire vuol dire vivere eternamente insieme con il signore ma cosa vuol dire essere giudicati secondo gli uomini nella carne questo è il rebus e allora chi ha fatto la traduzione ultima italiana pensa che questo essere giudicati secondo il criterio umano nella carne vuol dire essere condannati a morire e traducono affinché siano condannati come tutti gli uomini nel corpo crepare la stessa cosa nella vecchia traduzione italiana perché pur avendo subito perdendo la vita nel corpo la condanna comune è una bella infedele testo protestante affinché fossero giudicati nella carne secondo gli uomini ma vivessero nello spirito secondo Dio che cosa vuol dire questa volta lasciamo i nostri fratelli protestanti alla loro vita e proviamo a vedere il tentativo che è stato fatto dai traduttori cattolici tenete presente che si parla di morti è stato annunziata la buona novella anche ai morti i quali certamente hanno dovuto subire quello che ogni uomo subisce la fine della vita ma questi signori non stanno ancora vivendo la loro vita eterna accanto a Dio ed è per questo che è stato annunciato a loro notate il verbo è vangelo eu bene anghello si nasconde qui sotto il verbo anghello però per una regoletta della lingua greca non avete la A ma avete la E perché è un aumento non vi sto a spiegare che cos'è l'aumento del verbo greco ma dietro quella E lunga dietro a questa Eta c'è un'alfa eu anghello poi dite ma perché Don Renato anghello sono due gamma e sì perché una gutturale davanti a un'altra gutturale si legge n quindi in una parolina così piccola si può bocciare tutta la classe e io trovo gusto a questi morti dunque viene annunciata la buona novella il vangelo affinché perché viene annunciata la buona novella perché pur avendo subito lo scacco della morte non vivano da morti per tutta l'eternità ma vivano accanto a Dio per tutta l'eternità e quindi il morto in questo caso decide se accogliere o non accogliere il messaggio questo è un dato molto importante perché allora vuol dire che esiste la possibilità di decidere non solo in questa vita Gesù accenna a questa situazione strana perché dice che ci sono dei peccati che non sono rimessi né in questa vita né nella vita eterna wow il che vuol dire che nell'eternità c'è ancora il perdono quindi l'eternità non è una semplice cristallizzazione di noi di tutte le nostre scelte del bene e del male che abbiamo operato e questa cristallizzazione resta in eterno c'è qualche cosa che permette di fare ancora esperienza del perdono di Dio e questo è un dato che dovrebbe in qualche maniera anche consolarci i teologi dogmatici ci dicono che il purgatorio rientra in questa logica dove Dio perdona ancora quello che a me interessava è farvi notare come la traduzione italiana in questi tre versetti sia un po' problematica e in questo caso per capire l'italiano bisogna andare al greco l'italiano che dovrebbe spiegare il greco invece si trova spiegato dal greco questi sono semplici esempi perché possiamo capire l'importanza di essere prudenti quando leggiamo un testo in traduzione cerchiamo di avere quell'equilibrio di non sparare subito quel maledetto secondo me perché quando tu parti col secondo me la prudenza non è mai molta per questo motivo va bene leggere la traduzione italiana perché sì sarà anche una bella infedele però se voi cercate l'esattezza del pensiero non cercatelo nella traduzione la traduzione dà la bozza del pensiero e un avvicinamento alla parola di Dio molto spesso noi non possiamo fare di più e quindi facciamo bene a leggere la traduzione però da qui a impalcare una riflessione teologica beh andiamoci piano le riflessioni teologiche si fanno qua vediamo adesso una volta chiarito queste piccole cose che poi sono anche grandi di tutto quanto quello che abbiamo detto questo è importante la volontà di Dio che si manifesta nel modo di pensare queste cose sono importanti perché no ma vengono dopo e la seconda cosa che esiste ancora il perdono anche dopo la morte non solo prima anche dopo bene detto questo adesso cominciamo abbiamo visto che il testo che stiamo esaminando è suddivisibile in quattro momenti particolari noi adesso prendiamo in considerazione questo avendo Cristo sofferto nel corpo anche voi dunque armatevi degli stessi sentimenti chi ha sofferto nel corpo ha rotto con il peccato per non vivere più il resto della sua vita nelle passioni umane ma secondo la volontà di Dio io penso che il grosso modo del messaggio vi sia arrivato chiaro io qui vi dico guardate che Ennoia indica fondamentalmente il modo di pensare e questa frase di Pietro o di chi per lui richiama quanto Gesù dice a Pietro nel giorno in cui Pietro confessa la messianicità di Gesù a Cesarea di Filippo la gente chi dice che io sia e voi chi dite che io sia Pietro fa la confessione di fede poi Gesù annuncia la sua morte e Pietro dice non farlo e Gesù gli risponde tu non pensi secondo Dio ma secondo i uomini ecco Ennoia è il pensare secondo Dio non il pensare secondo giustizia non il pensare secondo verità non pensare secondo il buonismo e cose di questo genere tutti questi valori trovano armonia se noi pensiamo secondo Dio c'è un secondo elemento da mettere in evidenza torniamo alla linea 23 quella parola lì fa un po' di paura riuscite a vederla? armatevi wow eccolo lì il verbo oplisatze chi conosce un pizzichino la cultura greca sa rispondere a questa domanda come si chiamava il soldato di fanteria greco? oplita e quindi il verbo sarebbe fanterizzatevi no è importante perché quando si studia l'arte della guerra greca si sa che il cavaliere greco che non era poi stimatissimo aveva un bagaglio di armamento molto leggero molto leggero mentre l'oplita elmo corazza scudo qualche volta i gambali non vi viene in mente niente paolo a un certo momento preso dall'entusiasmo dice che noi cristiani dobbiamo avere tutte le armi ma ogni arma ha un valore spirituale la fede la speranza la carità questo mettervi addosso le armi dell'oplita armatevi richiama questo pensiero di Paolo che vuol dire che l'autore della prima lettera di Pietro conosce benissimo le lettere di Paolo ed è come se dicesse andate a vedere che cosa significa armarsi degli stessi modi di pensare di Cristo che ha scelto ha accettato di soffrire nel corpo allora noi cominciamo a capire una cosa molto seria la sofferenza tu non la puoi capire a livello antropologico quando un uomo ti dice guarda che la sofferenza affina l'animo e tu sei pieno di mal di orecchi sai dove lo mandi la sofferenza ti affina l'intelligenza per dire le parolacce se uno ti dice ma solo attraverso la sofferenza tu riesci a capire poi la sofferenza degli altri tu stai capendo la tua sofferenza in quel momento e dici non la voglio mi spiego perché a livello umano la sofferenza non ha una spiegazione esaustiva puoi trovare degli elementi che ti diano la capacità di sopportarla la lettura che invece fa la fede è una lettura diversa e la prima lettura che fa la fede è questa evitala noi non siamo nati per soffrire la frase inversa che invece noi sentiamo spesso siamo nati per soffrire non è giusta il nostro habitat del vissuto lo troviamo nello star bene la sofferenza è qualche cosa che va combattuta e quando è possibile vinta ma ci sono situazioni in cui la sofferenza la possiamo combattere ma non riusciamo a vincerla e allora che significato ha questa sofferenza la lettura di fede ti fa fare un salto se la accetti questa lettura di fede puoi avere un senso molto serio e se non la accetti resti nella situazione precedente la lettura di fede è una lettura che punta su due obiettivi e parte da questo concetto la sofferenza non è una maledizione non è un castigo è una situazione che appartiene all'uomo e che appartiene alla caducità dell'uomo ci sono sofferenze che noi involontariamente ci procuriamo chiedetelo ai medici che devono curare colui che beve a un fegato disastrato ma è una sofferenza che lui si è procurato abbiamo i terremoti non riusciamo ancora a capire almeno a prevenire a sapere qualche ora prima perché se conoscessimo eviteremmo qualunque morte e ci sono altre sofferenze che non riusciamo a gestire fa parte della nostra realtà i biologi ci dicono che più di trent'anni le nostre cellule cento e trent'anni le nostre cellule non non riescono ad andare oltre e quindi ci sarà la morte dunque la fede dice stiamo attenti che la sofferenza in Cristo è diventata redentiva come lo sia diventata redentiva non lo sappiamo però in mano a Dio quella sofferenza ha salvato tutti gli uomini allora il cristiano per fede soltanto non per ragioni umane vive la sofferenza come lui io non so come ma Dio si serve della mia sofferenza come si è servito della sofferenza di Cristo per la salvezza mia e degli altri quale sia il meccanismo non lo so ma poi c'è un secondo motivo che lo troviamo alla fine di questo capitolo in questo caso però non c'è la sofferenza in genere c'è la sofferenza del cristiano in quanto cristiano il disprezzo di essere calcolati come cittadini di serie B oggi succede questo in Italia se tu dici di essere credente immediatamente sei cittadino di serie B chi lo sa perché in questo caso dice la parola di Dio sei beato mica tanto beato non significa essere felici ma significa essere certi di essere salvi per il momento basta di essere